Ma tu hai piccato il fuoco a regno e bruciato tutto quanto... Questo... Oh hey Foxy! Oh hey Springy! Che fai di bello? Oh nulla, sto controllando la cronologia del vecchio Foxy! Aspetta, io ho l'altro Foxy! Oh l'altro Foxy, vuoi dare un'occhiata? Certamente! Vediamo qui, clicchiamola e... Dov'è finito il mio laptop? Eppure mi sembrava di averlo messo qui. Spiegami che cazzo è questo!